Dopo un anno di pausa a causa del Covid, ritorna alla Festa dell'Olio di Montemurlo, giunta quest'anno alla sua 26esima edizione. La manifestazione, promossa dal Comune, dal Comitato Festa dell'Olio e dall'Associazione Borgo della Rocca con il patrocinio della Regione, è la più importante manifestazione della provincia per la promozione dell'olio extravergine d'oliva. Il programma della festa, che per ragioni di Covid è stato spalmato su tre settimane, entra nel Clou. Domenica, in Piazza Castello della Rocca, sarà possibile degustare e acquistare l'olio nuovo. Sono già tantissime le richieste arrivate anche da fuori provincia e regione per partecipare alle iniziative. L'occasione per poter vivere e scoprire ancora di più quelle che sono le peculiarità e le bellezze della nostra realtà e del nostro paesaggio. Si riesce a portare a Montemurlo tanta gente per conoscere l'enogastronomia, la cultura. Domani sera al Frantoio della Rocca sarà incoronato il miglior oro verde della stagione, grazie alla sesta edizione del concorso Olio di Casa Nostra, a cui hanno partecipato i campioni delle aziende agricole del territorio, ma anche le produzioni degli uvicoltori dilettanti. Sappiamo che quest'anno c'è stata una riduzione del 60% dovuto alle questioni climatiche, però sappiamo che la qualità è stata mantenuta e per questo non vediamo l'ora di assaggiare il miglior olio di Montemurlo. Questa edizione pone l'accento sulla conoscenza del territorio e della sua storia. Sabato alle 16 le cantine della Rocca ospiteranno la presentazione del libro Statuto del Comune di Montemurlo e i capitoli dell'opera della Pieve e altri documenti inediti. Si scopre la storia, quella che non si riesce a vedere in altra maniera. Ritrovando un po' questi documenti antichi si è visto come magari nei tempi passati c'era questo modo che anche il Papa ci sta dicendo adesso, che sta richiamando un po' tutta la Chiesa, che è il cammino sinodale.